Manca soltanto un giorno alla direzione nazionale del Partito Democratico, un giorno decisivo, in un momento davvero delicato per la politica italiana. Il segretario del PD cercherà di convincere tutti, rilanciando gli otto punti di governo con cui intende andare in Parlamento a chiedere la fiducia. La strada è stretta, ma per Bersani non ci sono dubbi, nessuna intesa con il PDL e nessun governo a 5 stelle. Ci si aspetta un sostegno pieno alla linea del segretario, anche se non mancheranno dubbi ed incertezze di alcuni dirigenti PD. Se la direzione darà il via libera, Bersani potrà salire al Quirinale con il supporto di tutto il partito e proporre la sua ricetta per un governo di cambiamento a cui il Movimento 5 Stelle dovrà dare una risposta chiara, assumendosene ogni responsabilità. Sul tavolo della direzione anche l'ipotesi di un rifiuto di Grillo. Quali scenari si apriranno? Meglio sostenere un governo tecnico o tornare al voto? A partecipare al dibattito ci sarà anche Matteo Renzi che oggi ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Monti, un incontro esclusivamente istituzionale, precisa il sindaco di Firenze. La direzione sarà trasmessa in diretta streaming su UDEM TV a partire dalle ore 10 per segnare la differenza tra una passerella e un confronto vero, un guanto di sfida lanciato all'idea di democrazia interna del Movimento di Grillo. Grazie a tutti.